e buongiorno amici di Bet Italia Web, ci siamo, ci siamo anche oggi, buon venerdì, ultima puntata settimanale del nostro Bet Italia Web Daily Show dove come sempre andiamo a vedere il programma degli eventi sportivi da non perdere oggi, poi segnaliamo le migliori free peak per venerdì ma anche per il free in settimana come solito, c'è lo studio di D'Artagnan che ieri ha subito aperto con una bella cassa, veramente sta andando forte, ma ne parleremo subito dopo, oggi vi daremo le altre 5 giocate di D'Artagnan tra oggi e domani, c'è una doppia del Presidente invece sulle nazionali africane a 5,86 di quota, poi vi daremo una singola di striker sul calcio argentino della notte e 2 giocate di insider sulla KHL, quindi tanta roba ma come sempre iniziamo con il palinsesto della giornata, iniziamo dal calcio, 8 partite tra tardo pomeriggio e sera per le qualificazioni ad Euro 2020, alle ore 18 si inizia con Armenia Grecia e con Finlandia Lichtenstein, alle 20.45 però occhi puntati su Bosnia Italia, le quote sono per gli azzurri a 2.20, la Bosnia si gioca a 3.40, X a 3.65, la motivazione non manca per Roberto Mancini che cerca di vincere la nona partita in questo avvio da record per gli azzurri in queste qualificazioni, alla Bosnia serve un mezzo miracolo per rimanere ancora in corsa, però è una nazionale che ha giocatori come Pjanic, non c'è Dzeko, almeno da quanto vedo delle ultime notizie che mi arrivano dalla redazione sulle probabili formazioni, andiamo a vedere come dovrebbe schierare l'Italia Roberto Mancini, 4-3-3, donna rumma tra i pali, in difesa Bonucci e Acerbi, esterni di Lorenzo e Biraghi, a centocampo Zagnolo, Giorginio e Barella, in attacco invece dovrebbe agire immobile supportato da Chiese ed Insigne, immobile in vantaggio su Belotti. Sempre calcio, si giocano anche delle amichevoli, la più interessante è senza dubbio Brasile-Argentina, la rivalità leggendaria del superclassico d'America, 106 spide finora giocate, 42 vittorie per la nazionale Verde Oro, 28 per l'Albi Celeste e 26 pareggi, si gioca in Arabia Saudita, ore 18 italiane se volete seguire, dovrebbero essere in campo anche Neymar e Messi, ex compagni a Barcellona, nell'Argentina potrebbe debuttare anche il portiere dell'Udinese, Musso, Brasile favorito dalle quote a 2.30, Argentina si gioca a 3x a 3.20, non ci siamo mossi per ora su questa giocata, seguiteci sul canale Telegram, Basport Web per eventuali dettagli, discussioni con i nostri tipser e altri appassionati di scommesse su questa e su altre partite e su altri sport anche. Passiamo al tennis, continuano le ATP World Tour Final, ieri Federer ha messo fino al suo tabù contro Djokovic, una partita suntuosa di Ray Roger che ha battuto il serbo per 6-4-6-3, Federer va in semifinale eliminando tra l'altro quello che fino a ieri era il grande favorito per la vittoria, Djokovic che era dato a 1.90 e adesso è Federer il nuovo favorito a 2.50, seguito da Thiem a 3.75, Tsitsipas a 5.50, Nadal a 7.50, Zverev a 11 e Medvedev a 30. Ieri c'è stato anche un Berrettini nella storia, il nostro Berrettini ha sconfitto Thiem, prima vittoria italiana alle Finals, tra l'altro ieri io non sono esperto di tennis come voi sapete, per questo c'è il nostro grande tipster Darius, vi consiglio di andare nel suo canale Telegram Free e di attivare anche un abbonamento VIP perché è un tipster con risultati certificati e tutti archiviati in profitto da 10 anni, ormai si sta avvicinando alle 11.000 pic, quindi parliamo di un professionista, ieri mi sono scordato di chiedergli un'idea che mi era venuta proprio mentre registravo, Berrettini a più di 3 di quota contro Thiem che è già sicuro di andare in semifinale, io non so quanti tennisti mollino per riposarsi per la gara dopo o invece rimangano sul pezzo per mantenere il ritmo, io non seguendo, però con la motivazione storica che aveva Berrettini di vincere almeno l'ultima partita con Thiem che non si giocava niente e con la quota a 3 e passa di Berrettini mi sembrava di valore, alla fine mi sono dimenticato di chiedere Lumi al nostro Darius, non l'ho giocata e Berrettini ha vinto, grande Berrettini, peccato non aver incassato quest'idea, è inutile però piangere sul latte versato, vabbè latte versato no perché non è che abbiamo scommesso su Thiem, non abbiamo perso niente, però diciamo che nelle scommesse tutto ciò che non viene guadagnato è in un certo senso perso, però pensiamo oggi, terza e ultima giornata pure per il gruppo Agassi alle ore 15 c'è un altro giocatore che è già certo della semifinale Stefano Zizipas che se la vedrà con Rafa Nadal che però in questo caso è nettamente favorito a 1 e 45, Nadal però è reduce dalla maratona vincente di mercoledì sera contro Daniel Medvedev, proprio il russo a sua volta nonostante le due sconfitte subite potrebbe ancora prodare alle semifinali battendo Zverev per 2-7 a 0, se volete giocare il 2-0 Medvedev l'ho trovato intorno a 3 di quota. Passiamo al basket, Eurolega, ieri Milano si è fermata a Mosca dove è crollata nel secondo tempo perdendo 87-79 contro il Chimchi e nel classico spagnolo vittoria del Real per 86-76 su Barcellona, quindi vittoria e handicap coperto dalla squadra di Madrid. Oggi ottava giornata di stagione regolare, ultimi quattro incontri in programma, si inizia alle ore 18 con CSKA Mosca Fenerbace, alle ore 19 toccherà Stella Rossa Lione, poi alle 20.30 Olimpia con Zalgiris Caunas e infine alle 21 Valencia Bayer. Basket si gioca anche l'anticipo dell'ottava giornata di Serie A2 Est, la seconda lega della pallacanestra italiana, si sfidano Urania-Milano contro Ravenna, Urania che è la seconda squadra di Milano, sta andando un po' peggio dell'Olimpia, infonda la classifica di Serie A2 insieme a Caserta e Orzinuovi con un record di 2-5, l'esatto contrario di Ravenna che invece ha un record di 5-2 capolista, nonostante questo per la trasferta a Milano Ravenna è sfavorita a 2, l'Urania si gioca a 1-70. Anche qui canale Telegram il presidente basket per eventuali studi e consigli su tutto il basket italiano ed europeo dal nostro Frariz. Passiamo all'occhio su ghiaccio, ieri ben 5 pic sulla KHL dal nostro insider, 3 sono entrate, cassa perché abbiamo preso anche belle quote, un paio di quote a oltre il raddoppio, per esempio avevamo consigliato over 1,5 dell'UFA a 2,30 di quota, grande cassa per noi perché l'UFA è andato a vincere addirittura 5-2 sul campo della Sesca Mosca, il CSKA in un momento difficile ne abbiamo approfittato ieri. Miglioriamo ancora il rendimento stagionale di KHL che ora recita 53 pic esatte, 28 sbagliate per un più 38,08 unità di profitto netto su 184 unità investite, parliamo di un ROI che si avvicina al 21% e inizia a essere interessante anche perché in questa stagione ci avviciniamo alle 100 pic. Oggi sono in programma 4 partite a staffetta, si sta già giocando Vladivo Stokiocherit, anzi sta già finendo ormai, alle 12.30 a Kundlum contro SCA San Petersburgo, poi toccherà alle 15 a Metalurg Magnitogos contro Sochi e infine Dinamoriga Podolsk alle 18.30. Freepik, andiamo subito a vedere come è andata ieri, vi avevamo dato tante giocate, 8 giocate, 5 sono andate in cassa, 3 le abbiamo sbagliate, continuo a migliorare anche qui il nostro rendimento, da luglio a novembre abbiamo incassato con le pic selezionate nel podcast più 40,09 unità su 656 investite, anche qui parliamo di un ROI del 6,11% e soprattutto qui iniziamo a parlare di quasi 300 pic da luglio a oggi. Ieri abbiamo preso l'over 2,5 della Repubblica cieca contro il Kosovo a 1,85, era la prima giocata dello studio di D'Artagnan che sta davvero andando fortissimo, vediamo se anche questo fine settimana vi daremo altre 5 giocate tra oggi e domani con le nazionali europee, vediamo se anche questo fine settimana abbatteremo cassa con i consigli di D'Artagnan. Ma ieri siamo andati in cassa anche con Darius, si aveva consigliato una doppia a 2,42, stake 2, stessa giocata di D'Artagnan ovvero Repubblica cieca Kosovo over 2,5 a cui ha aggiunto anche Egitto-Kenia under 3,5. Sbagliamo invece Lanus, coppa d'argentina con striker che ci aveva consigliato il Lanus vincente, Lanus che ha perso 1-0 contro Central Cordoba. Dopodiché si apre la serie di scommesse di Insider sulla KHL, come detto 3 scommesse esatte, 2 sbagliate, abbiamo sbagliato il Cipino, stake 1 sul Nertechimic vincente a Yaroslav, niente da fare, anzi pesante sconfitta del Nertechimic, avevamo consigliato stake 1 a 2,38 di quota per valore, abbiamo poi sbagliato anche la Spartak Mosca che ci ha deluso, avevamo consigliato almeno 3 gol dello Spartak in trasferta a riga, partita finita 3 a 1 per la Dinamo-Riga. Kasse invece come già anticipato con over 1,5 dell'UFA che ha vinto, che ne ha segnati 5 a Mosca in casa della CSKA, quota 2,30, stake 2, abbiamo incassato anche Dinamo-Mosca vincente contro il Baris-Nur-Sultana a 1,75 e nella stessa partita anche l'over 4,5, 2,10, qui c'è andata bene perché la Dinamo-Mosca ha vinto ai supplementari. Sempre con Insider però purtroppo abbiamo sbagliato la doppia di tennis sui Challenger, ci stanno dicendo male, avevamo soprattutto gli italiani ci stanno dicendo male perché anche ieri abbiamo pagato la sconfitta di Salvatore Caruso contro Elliot Benchetrit, mentre avevamo incassato Ivashka vincente contro Alexander Muller. Va bene, vediamo di rifarci adesso, andiamo a vedere cosa abbiamo preparato per oggi, andiamo a ripetere le 5 giocate dello studio di D'Artagnan che è già uscito mercoledì, poi vi daremo una doppia del Presidente, 2 giocate di KHL e una di calcio argentino. Ok, iniziamo. D'Artagnan ripetiamo lo studio sulle nazionali, nelle partite di oggi ha consigliato Norvegia, Isole Faroer, Norvegia over 2,5 a 1,60 stake 3, la seconda giocata Bosnia-Italia, Italia drono beta 1,62 stake 3, ovvero Italia Asian handicap più 0 sui mercati asiatici, per esempio su Bet365, cosa vuol dire questa giocata? Vuol dire che se l'Italia vincerà incasseremo la quota a 1,62, se l'Italia pareggerà avremo il rimborso, quindi non perderemo niente, se l'Italia invece perderà ovviamente ci rimetteremo questi 3 stake. Comunque secondo le analisi l'Italia ha motivazione per non perderla, non sarà una trasferta semplice però vediamo, proviamo a dare fiducia ancora una volta agli azzurdi. Terza giocata di oggi è ancora una volta un drono beta, ovvero un Asian handicap più 0, andiamo con Romania-Svezia, Romania drono beta 2, stake 2, uno stake un po' più basso rispetto a quello dell'Italia, quota però a raddoppio, anche qui la Romania, andremo in cassa se la Romania vincerà, rimborso in caso di pareggio e speriamo che la Svezia non passi in questa trasferta. Per le partite di domani ci portiamo avanti con Russia-Belgio over 2,5 a 1,85, stake 3 e con Croazia-Slovacchia, Slovacchia gol no a 1,90, stake 2. Questi sono i 5 consigli di D'Artagnan, vediamo anche la doppia del Presidente sulle nazionali africane, una doppia a 5,86 di quota, stake 1, stake minimo. Siamo andati con Zimbabue-Botswana gol gol e Tanzania-Guinea gol gol, quindi due partite con entrambe le squadre a segno per una bella quota quasi 6 volte da posta. Chiudiamo col calcio, chiudiamo con Stryker, Belgrano-Alvarado, andiamo col Belgrano-0,25, Asian handicap a 1,82, stake 2. Parliamo della seconda lega del calcio argentino, il Belgrano ha bisogno di punti salvezza per una squadra che non vince addirittura da 7 giornate, anche se 4 sono stati pareggi, per questo prendiamo un mezzo rimborso in caso di pareggio, ovvero il-0,25 Asian handicap contro l'Alvarado che sta andando un po' meglio in classifica e non perde da 4 giornate, 3 vittorie, ma in trasferta ha vinto solo una volta in 5 partite quest'anno, occasione quindi di riscatto per il Belgrano. Chiudiamo con le ultime due giocate di Insider su LOKI KHL, Kunlun Red Star, SCA San Petersburg, attenzione perché inizia tra poco alle 12.30, siamo andati sulla vittoria dello SCA nei tempi regolamentari a 1,72, stake 2. SCA in ripresa con 4 vittorie nelle ultime 5, potrà approfittare del momento di crisi della CSKA che ieri ha perso la terza partita di fila, il Kunlun invece è solo decimo S con 26 punti, ha perso le ultime due partite e ha sempre perso in 9 sfide contro lo SCA, tutte sconfitte arrivate già nei tempi regolamentari, quindi andiamo con lo SCA 1x2 a 1,72. Seconda e ultima giocata di Insider, Metalur Manito Goss contro Sochi, anche qui andiamo sulla vittoria del Metalur nei tempi regolamentari a 1,66, stake 2. Metalur è un altro top team in crescita dopo un avvio deludente, un po' sulla falsa riga dello SCA, puntiamo sulla vittoria in casa contro Sochi che dopo 4 vittorie si è fermata di colpo nel 5-1 sul ghiaccio dello Yekaterinburg. Il Metalur è solo settimo a Est ma ha vinto le ultime 4 partite e inoltre è 4-1 negli ultimi 5 precedenti contro Sochi, 3 di queste 4 vittorie sono arrivate nei tempi regolamentari, quindi andiamo anche qui con la vittoria del Metalur. A me non resta che ringraziarvi della vostra attenzione, salutarvi, vi ricordo che oggi pomeriggio torniamo con Sport USA News & Tips, non c'è stata la registrazione ieri perché un po' sorpresa è tornato a trovarci il Panda per parlare di motori, ascoltate il Motorpeak, abbiamo dato tanti consigli per l'ultima gara di MotoGP e per la penultima di Formula 1 Interlagos. Detto questo vi auguro un buon weekend, fate buone scommesse e puntate sempre con la testa. Ciao!